Buona posizione, colpito il pallone dal difensore, un gol magnifico, non ha lasciato scappo al portiere. Gli hanno concesso troppo spazio per calciare, lui ne ha approfittato, bravo, furbo, ha fulminato il potere con un gran botta dalla distanza. Recupera la palla, è traccettato bene il pallone. Prova, un gol pazzesco, ha calciato praticamente la casa sua. La dimostra.